ciao a tutti oggi prepareremo il miele d'oro rimedio naturale per l'influenza il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa gli ingredienti sono miele biologico e curcuma andiamo via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il miele e la curcuma ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 2 trasferire in barattoli di vetro miele d'oro ai primi sintomi di influenza tosse o raffreddore è importante assumere il miele d'oro per tre giorni in modo continuativo nel seguente modo mezzo cucchiaino di miele d'oro ogni ora il primo giorno il secondo giorno mezzo cucchiaino di miele d'oro ogni due ore il terzo giorno mezzo cucchiaino di miele d'oro tre volte al giorno se volete invece utilizzarlo in forma preventiva potete assumere un cucchiaino di miele d'oro tre volte al giorno per una settimana miele d'oro grazie e alla prossima ricetta e 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